Nastassi e i portugalsi possono dare... Saru e possono, ovviamente, prendere ancora una sensazione! Non dovrebbe essere un corso! Piede per Grigolone, mi ha segnato un tiro libero per la squadra. E' un tiro libero per la squadra. C'è Stendel e da solo in mezzo! Spaglia! Grande defesa di Gugliel! E' un'altra defesa di Gugliel! L'instituto Sporting, la memica, libero però, però guarda! Capita, ma che è questo? Lui si è futsal! Che è questo? Merlino, 2! Non è 2 per 1, perché qui è 2-0! E' 2-0! Non lo sai... Ma perché questo se torna... Sì! Un tiro rosso per... Miraglia! Dunne di Miraglia! Che giocata di Miraglia si esalta! Stendolo giocata di Miraglia! E' un'altra, 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 in un'altra, un'altra! E' il giusto di farlo! E' il giusto di farlo! Iniziamo a Enrico, a restare qui con il posto, ma... ... va a sticare tutto inizia, e vuoi vedere? E' il giusto di farlo! ... 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 Palma Futsal di Palma, ci sta sorprendendo Clever con il saque, non pudo hacer nada. Palma Futsal di Palma Futsal di Palma Futsal di Palma. Palma Futsal di Palma Futsal di Palma. Palma Futsal di Palma Futsal di Palma. Buon appetito! e non si vede qui e non si vede la parte del campo e la carta è rosa Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.